suicidio assistito fabio ridolfi riceverà la sedazione profonda sicurezza al campus arrivano anche le telecamere interne salone del mobile 50 aziende marchigiane nella vetrina milanese sul mare di pesaro sventola la bandiera blu per il diciottesimo anno alla scoperta del lago del parco miralfiore oasi naturale sempre più accessibile buonasera tutti voi benvenuti al nostro telegiornale oggi è mercoledì 8 giugno e apriamo questa edizione tornando ad occuparci del delicato caso che arriva da fermignano e che è destinato a fare giurisprudenza a livello nazionale parliamo della toccante vicenda di fabio ridolfi 46 n tetraplegico che ha i requisiti per accedere al suicidio assistito ma che davanti all'immobilismo della politica sceglie ora di porre fine alle sue sofferenze attraverso la pratica della sedazione profonda vediamo il servizio fabio ridolfi porrà fine alle sue sofferenze attraverso sedazione profonda è questo il contenuto del terzo videomessaggio realizzato dal puntatore oculare del 46 n fermignanese tetraplegico reso virale dall'associazione luca coscioni che lo assiste fabio ridolfi da 18 anni è completamente paralizzato e costretto ad una vita di sofferenze da lui definite sempre più insopportabili ha chiesto l'accesso al suicidio assistito perché dispone di tutti i requisiti previsti dalla corte costituzionale l'inerzia delle istituzioni e della politica però non glielo permettono anche la legge approvata alla camera ora risulta arenata in senato fabio atteso 40 giorni il parere del comitato etico era pronto anche se incompleto ed è stato recapitato solo a seguito del clamore del primo video appello reso pubblico con l'associazione luca coscioni dopo altri 20 giorni di attesa senza risposta per conoscere il farmaco e le modalità di somministrazione ha deciso di procedere con la sedazione profonda e continuata vale a dire circa 15 giorni in cui fabio si spegnerà lentamente per mancanze di nutrimento come lui stesso ha disposto a giorni riceverà una prima iniezione in casa dove si addormenterà per poi completare il ciclo di sedazione profonda nell'ospice di fossombrone dove destinato a non svegliarsi più dal suo letto di fermignano fabio ridolfi ha comunicato testuali parole vorrei dire alle persone che vivono come me di farsi sentire altrimenti le cose non cambieranno mai e ora che in italia si parli chiaramente di eutanasia è atroce non poter decidere della propria vita mentre aspetti dei mesi che altri lo facciano al posto tuo scegliere di morire è un diritto di tutti e spero che questo serva ad aiutare anche quelli che vivranno la mia condizione parole a margine di giorni in cui fabio sta dando gli ultimi saluti ai suoi familiari fra pochi giorni gli verrà staccata l'alimentazione e l'idratazione per procedere alla sedazione nell'ospice di fossombrone dove il dottor carlo alberto brunori lo seguirà fino all'ultimo respiro e cambiamo argomento dopo i tanti episodi di micro criminalità avvenuti proprio negli ultimi mesi al campus scolastico di pesaro a breve verrà attivato anche un impianto di video sorveglianza interno oltre a quella del perimetro esterno già attualmente attivo lo ha annunciato il presidente della provincia giuseppe paolini rispondendo ad una interrogazione in consiglio provinciale paolini a giorni firmerà quindi una liberatoria sulla privacy di concerto con i carabinieri e con il consenso delle famiglie degli studenti che in passato avevano osteggiato questa eventualità gli ultimi episodi hanno invece suggerito un cambio di rotta a norma di legge le telecamere non potranno essere dentro le scuole ma potranno essere posizionate nei cortili interni telecamere che si useranno solo per individuare gli autori di eventuali reati e atti vandalici ed ora ci spostiamo a milano e ci occupiamo di economia e con le immagini che vi facciamo vedere che arrivano direttamente dal salone del mobile che appunto si sta tenendo a milano dopo tantissimi anni e allora sono 50 le aziende marchigiane presenti sono 50 le aziende marchigiane che fino al 12 giugno saranno di scena al salone del mobile la grande kermesse milanese che ieri ha visto il taglio del nastro alla presenza del vicepresidente regionale mirco carloni al fianco del ministro giorgetti del sindaco di milano sala e delle governatore della lombardia fontana è un appuntamento cardine per uno dei settori produttivi più distintivi delle marche che rappresenta oltre l'11 per cento del fatturato totale del manifatturiero regionale dopo un 2021 da 740 milioni di euro di export un quarto dei quali verso la francia seguita da stati uniti e germania ed è una regione di immobilieri in cui pesero fa la parte del leone lo dicono i numeri ricordati anche ieri a milano su 2317 aziende marchigiane quasi la metà ovvero 1063 hanno sede nella provincia di pesero urbino una provincia che da lavoro ha più di 10.000 addetti ovvero più della metà dei 19.000 in regione una provincia che al salone del mobile sta facendo bella mostra di sé con brand quali scavolini ernesto meda tomassi galanti officine fanesi malerba former in domingo moretti compact di vuom tonelli gb group dolce far niente etal e adrenalina un esercito di espositori perfettamenti inseriti nell'incontro fra sostenibilità e bellezza che il mantra di questa edizione del salone espositori che hanno ricevuto anche la visita al salone del sindaco di pesero matteo ricci che ha consegnato a tutti il logo di pesero 2024 per rendere le eccellenze mobiliere e cuciniere ambasciatrici di pesero capitale italiana della cultura all'interno di una delle vetrine di massima visibilità nazionale salone del mobile che non è solo una vetrina ma anche un'occasione di programmazione politica a sostegno dell'ulteriore sviluppo della filiera del legno l'obiettivo nostro come giunta regionale è quello di calare delle misure che siano veramente conformi alle esigenze delle imprese ma anche del mercato noi abbiamo tante filiere produttive straordinarie lo dimostra la presenza in questo salone di 50 imprenditori che hanno presentato al mondo delle nuove modalità di arredo straordinarie con un design che veramente non ha nulla da invidiare ad altri competitor quello che vorremmo fare è far sì che queste grandi leadership di mercato diventino un'opportunità di crescita anche per il territorio in che modo con due misure in particolar modo quella degli investimenti e quella delle filiere d'ecosistemi noi vorremmo dare forza agli investimenti alla crescita del valore nella filiera produttiva facendo in modo che i nostri fornitori che lavorano dentro una catena del valore come quella del mobile dell'arredo diventino sempre più competitivi e riescano ad attrarre anche investitori ma soprattutto a non doversi basare sul prezzo cioè sull'abbassamento dei costi di produzione che è una strada che noi non possiamo percorrere piuttosto dobbiamo riuscire a rafforzare nei costi di logistica nei costi di marketing nei costi di formazione in quelli di digitalizzazione degli investimenti che aziende piccole possano fare insieme e rafforzarsi quindi rafforzare quelle che sono le catene del valore di questa regione e il mobile l'arredamento è principalmente una di quelle catene di valore che secondo me merita grande attenzione ed ora vi mostriamo questa breve intervista postata questo pomeriggio sui suoi canali social dal sindaco di pesaro matteo ricci che oggi è a parigi nella sede dell'unesco per rappresentare assieme alla delegazione del rossini opera festival pesaro capitale della cultura 2024 siamo a parigi oggi saremo all'unesco a presentare la capitale italiana della cultura nella giornata in cui festeggiamo la festa della repubblica grazie all'ambasciatore all'unesco e poi vi racconteremo ma vi volevo far vedere questo luogo siamo nel centro di parigi e questo era un tratto dove passava la ferrovia un tratto che è stato riconificato esattamente come noi vorremmo fare con la nostra green line da dove oggi passa la ferrovia che taglia in due la città sotto il mare vorremmo costruire una linea green tutta con mezzi elettrici pedoni biciclette attraversabile tanto verde cambierebbe sicuramente la città e ne parliamo il venerdì primo luglio con il ministro giovannini perché ci illustrerà il progetto di velocizzazione della tratta adriatica e il nodo di pesaro per il quale sono stati inseriti nel piano un miliardo e duecento milioni quindi lo aspettiamo il primo luglio e oggi vi aggiorniamo sulla capitale della cultura e la bandiera blu a pesaro è diventata maggiorenne il vessillo che certifica la qualità delle acque marine infatti è stato issato al moletto per il diciottesimo anno consecutivo la bandiera blu diventa maggiorenne per il diciottesimo anno il vessillo della fe foundation for environmental education sventola sul mare di pesaro confermando i parametri di una qualità ambientale che continua a ribadirsi negli anni anche quest'anno vediamo sventolare la bandiera blu sulle nostre spiagge ed è una grande soddisfazione per me bandiera blu significa che la qualità dell'acqua è eccellente significa che la qualità della raccolta differenziata anche sulle spiagge è eccellente sono tutte valutazioni molto rigorose molto serie per cui a livello ambientale posso dire che stiamo facendo un buon lavoro chiaro che non ci dobbiamo mai accontentare cercheremo sempre di migliorare di arrivare a dei risultati ancora migliori per gli anni futuri il vessillo è stato issato questa mattina al moletto alla presenza degli ottori coinvolti dai benefici dal comune all'associazione albergatori dalla confesercenti ad una nutrita delegazione di gestori di stabilimenti balneari per celebrare un riconoscimento che valuta 32 parametri che spaziano dalla qualità delle acque ai servizi delle spiagge la bandiera blu che a pesaro diventa maggiorenne è sicuramente un bellissimo segnale di continuità che dà il senso dello sforzo di tanti elementi a partire dai sempre maggiori allacci fognari di ogni parte della città il raddoppio del duperatore insomma segnali che non vengono che non vengono a caso ma anzi è con l'attenzione anche dei cittadini e detto questo un doppio bel segnale perché oltre alla diciottesima bandiera blu sono in costante miglioramento anche le acque del di baia flaminia che non raggiungono ancora la bandiera blu ma raggiungono un livello di valutazione assolutamente eccellente e quindi insomma una cartolina in più da offrire in termini di credibilità a un turismo che cerca ovviamente sempre più la qualità oltre che un dovere dal punto di vista ambientale continuiamo il nostro viaggio per conoscere i candidati a sindaco nei tre comuni della provincia di pesaro urbino che il 12 giugno saranno chiamati a votare oggi andiamo a tavoletto a conoscere le proposte di stefano pompei attualmente sindaco in carica e ricandidato per questo secondo mandato stefano pompei attuale sindaco di tavoletto ricandidato per il secondo mandato domenica 12 si aprono le urne quali sono i capisaldi della vostra lista io farei una premessa perché nel senso della continuità con l'amministrazione uscente di cui ero e mio onore di essere sindaco questa lista si candida a proseguire il lavoro fin qui svolto è che era basato sulla corretta gestione finanziaria garantendo un equilibrio che gli stancambi ricerca di attrarre quanto più risorse possibile per i trasferimenti da parte degli enti sovracomunali pubblici e privati in modo di avere e di garantire a tavoletto la possibilità di investimenti da destinare alle opere strategiche del nostro territorio come abbiamo lavorato in questi anni noi vorremmo continuare a lavorare in modo di lasciare ai prossimi che verranno qui ad amministrare il nostro comune quando magari non ci saremo più già predisposta ad avere tutti gli investimenti e soprattutto non avere grossi debiti negli anni futuri facendo una previsione anche fino al 2040 2050 a livello di infrastrutture di opere avete in mente già qualche progetto ok mente di opere abbiamo già progetti perché sono progetti che sono iniziati in questa amministrazione che dovremmo portare a complimento stiamo facendo il rinnovando e aggiornando il campo sportivo con un investimento di decine di centinaia di migliaia di euro con il rifacimento di una tribuna con un muro di sostegno per una frana abbiamo in mente di valorizzare quello che oggi noi chiamiamo il campetto che usano i bambini i ragazzi per la pallacanestro un progetto di circa 600 mila euro circa di cui 100 mila già abbiamo previsto delle risorse per iniziare i lavori abbiamo poi la messa in sicurezza soprattutto delle zone ad alto rischio idrogeologico soprattutto però vorremmo anche favorire la cosa principale che noi abbiamo quindi vorremmo valorizzare i nostri territori dal punto di vista turistico sia in trekking sia in bike oltretutto noi abbiamo già una piccola parte di programma che abbiamo già realizzato realizzato per i biker che possono venire nel nostro territorio abbiamo anche in progetto un ampliamento di questa di questa ricezione per coloro che con le biciclette girano un po' tutto il mondo anche tutta Italia. Una politica la vostra soprattutto rivolta verso i giovani? Sì rivolta ai giovani ma soprattutto anche verso gli anziani perché come ormai è noto a tutti purtroppo gli anziani sono molto di più di giovani quindi il tavoletto non fa eccezione. I nostri anziani dobbiamo cercare di dargli un supporto per la loro vita quotidiana per non lasciarli soli per avere di dare in modo di farli sentire vicino anche l'amministrazione per i ragazzi anche qui abbiamo bisogno di un centro di aggregazione che non disperda queste energie in giro per il paese o nel giro per i vicoli vorremmo aggregarli cercare anche in sinergia con la Proloco abbiamo un centro culturale abbiamo alcune attività magari di cercare di coinvolgerli Cambia il volto della centralissima piazza Matteotti di Pesaro è infatti in corso da oggi l'installazione dell'opera scultoria realizzata dal maestro Giuliano Vangi si intitola I Gabbiani e celebrerà la ricorrenza dei 140 anni della ditta pesarese di Autolinea e Bucci l'opera sarà ufficialmente inaugurata sabato 11 giugno alle ore 11.30 l'università di Urbino è pronta a conferire un sigillo d'Ateneo a ricevere l'onorificenza del magnifico rettore Giorgio Cagnini sarà proprio il marottese Davide Mazzanti commissario tecnico della Nazionale Femminile Italiana di Pallavolo campione d'Europa l'appuntamento è per il 22 giugno a Palazzo Battiferri di Urbino quando alle 11 Mazzanti terrà Ralezio Magistralis dal titolo Competere l'arte di restare alunno Mettere a fuoco le problematiche di gestione dei pazienti ed adeguare il miglior percorso di trattamento alle strutture sanitarie più vicine è questo il concetto che vuole sottolineare il convegno Tumori cerebrali, percorsi e progressi nella rete ospedaliera che si terrà sabato 11 giugno a Pesaro nell'auditorium di Palazzo Montani Antaldi un'iniziativa organizzata dall'unità operativa di neurochirurgia degli ospedali riuniti Marche Nord e che vedrà la presenza del responsabile scientifico Letterio Morabito, direttore di struttura complessa della neurologia 1922-2022 da Monte Le Vecchie a Belvedere Fogliense un nome lungo un secolo è stata intitolata così la serata organizzata dal comune di Tavuglia prevista per venerdì 10 giugno alle ore 21 per omaggiare lo storico borgo di Belvedere Fogliense a 100 anni dal cambio della propria denominazione l'8 giugno di 100 anni fa infatti il decreto del re d'Italia Vittorio Emanuele III formalizzava il passaggio dal nome di Monte Le Vecchie a quello di Belvedere Fogliense accogliendo la richiesta avanzata dagli abitanti del paese un'iniziativa che grazie alle parole di Cristina Ortolani e alle letture di Enrica Romani guiderà alla scoperta e riscoperta di un pezzo d'identità del territorio comunale di Tavuglia tornano gli appuntamenti dell'Associazione Cultura Identità Sezione di Pesaro nella sala Bei della provincia domani giovedì 9 giugno alle ore 18.45 si parlerà di Monachesimo nelle Marche e Monachesimo nel nome della Rosa alla presenza di Primo Ciarlantini e Massimo Baronciani in qualità di relatori nel tracciare le linee fondamentali di un percorso dalle lontane radici la storia di un fenomeno che assunse vaste proporzioni nella terra delle Marche che si costellarono di numerose abbazie e monasteri Modera Cecilia Casadei a Pesaro in piazzale d'annunzio dopo l'allestimento con attività ludiche per bambini e la prossima installazione del maxicasco in onore della carriera di Valentino Rossi arriverà anche un food truck che animerà la zona per tutta l'estate il comune ha emesso oggi il bando per affidare la gestione di questa struttura dedicata alla somministrazione di cibi, bevande e coordinamento dell'area ludica si possono inviare le candidature al comune entro il 22 giugno concludiamo il nostro telegiornale con le immagini di un luogo che si trova nel cuore di Pesaro ma spesso ignoto e anche ignorato a molti cittadini parliamo del lago all'interno del parco Miralfiore un'area che non è aperta al pubblico ma è accessibile solo attraverso delle visite guidate un luogo sul quale il comune ha deciso di investire per renderlo sempre più sicuro, pulito e frequentato all'interno del parco Miralfiore che è il polmone verde cittadino c'è un'oasi naturalistica spesso nascosta alla maggior parte dei cittadini parliamo del laghetto interno al parco Miralfiore che è un'area normalmente chiusa al pubblico è aperta a determinate visite naturalistiche e culturali soprattutto dedicate alle scuole ma ora si vuol fare qualcosa di più il comune ha deciso di fare un investimento per rendere più accessibile, più sicura quest'area sempre più frequentata un'area che è la casa di diverse specie faunistiche ad esempio quella del marangone che è una specie volatile che nidifica qui ma anche altri uccelli le nutre, le oche sono di casa qui il comune lavora anche per rendere sempre più fruibile questo luogo da parte dei cittadini degli studenti, delle scuole un luogo sul quale si è deciso di effettuare anche uno stanziamento dopo l'ultima variazione di bilancio come ci spiega l'assessore Enzo Belloni devo dire che crediamo molto nel parco Miralfiore nella sua vivacità uno dei punti più belli ovviamente è il laghetto che è un'area non aperta al pubblico ma visitabile con accompagnatore molte classi vengono uno o due classi al giorno ci sono e abbiamo deciso appunto di impegnare le risorse ottenute con l'ultima variazione di bilancio per realizzare la palistata attorno al laghetto nel frattempo avevamo già sistemato le pompe quelle per dare ossigeno all'acqua del lago la compenetrazione che questa zona umida offre fra l'ambiente urbano un ambiente naturalisticamente così pregevole è unica vuol dire poter portare dei ragazzini e fare veramente cultura Pesaro si è giudicata il titolo di Capitale Cultura del 2024 con questo progetto che ha una fortissima attenzione alla cultura ecco qui proprio grazie soprattutto al lavoro di chi porta i ragazzini si fa veramente cultura cioè si crea un abito mentale un sistema di valori di percezione di idee che vanno a toccare proprio la relazione dei bambini dell'uomo con una natura in un ambiente umido che ripeto basta guardare la varietà della vifauna e non solo l'avete poi anche riprese quindi è un patrimonio che deve essere sempre più curato in prospettiva per renderlo per sfruttarlo al massimo nella sua funzione appunto sia ambientale sia culturale ambientale parla da solo all'immagine le specie che stazionano qui e nidificano qua dal punto di vista culturale ripeto la fruizione è quello che si lascia ai ragazzini che possono venire davvero senza prezzo e l'intervento sul laghetto è solo l'ultimo di tanti interventi effettuati in questi anni nel parco Miralfiore sul parco abbiamo anche installato quattro nuove telecamere di sorveglianza all'ingresso avevamo realizzato il parco giochi inclusivo e implementato anche gli altri giochi grazie al contributo di Avis nel frattempo la stagione estiva darà la possibilità a diversi spettacoli di svilupparsi nell'anfiteatro del parco Miralfiore ci sono vacanze estive che fanno alcuni gruppi alcuni enti di promozione sportiva gli scout che sono venuti più di un gruppo a dormire per due notti nel parco quindi tante attività per renderlo sempre più vivo vivibile e piacevole e questa era l'ultima notizia carissimi amici adesso andiamo a vedere però quella che è la programmazione di questa sera su Rossini TV subito dopo questa prima edizione alle 20.10 potrete trovare un evento che abbiamo seguito che è stato organizzato dall'Istituto Benelli che incontra Enrico Vanzini ultimo sopravvissuto al campio di sterminio di Dachau alle 20.10 poi chiaramente alle 20.30 c'è la nostra replica del telegiornale per poi arrivare all'altra prima nostra serata alle 21.20 vi raccontiamo in questo salotto televisivo una sfida avvincente meravigliosa di grande sport di grande passione alte marche unlimited mi raccomando seguiteci alle 21.20 domani invece torna la nostra consueta rassegna stampa ci diamo il buongiorno insieme leggendo i titoli dei quotidiani locali e allora ho detto davvero tutto carissimi amici grazie per essere stati con noi anche questa sera ci ritroviamo però domani puntuali alle 7.20 con la nostra rassegna stampa grazie a tutti